L'informazione giunta pochi minuti fa sarebbero stati persi i contatti radio con un 19 dell'Itavia in volo tra Bologna e Palermo. Il mio interesse per la strage giustica nasce da ragazzino durante le scuole, vedendo in tv il film Il muro di gomma. Poi questa cosa qui si è avvicinata di molto anche alla mia professione, la parte iniziale della mia professione, quindi ho cominciato a scrivere per un quotidiano anche se locale, però mi ha permesso a quel punto di avere anche un accesso diverso a questa storia. Dopo del film ho cominciato a sentire un po' di persone, un po' di colleghi che si occupavano di questa cosa, ho cominciato a leggere qualcosa su internet perché la mia passione nasce parallelamente anche a internet, eravamo i primi anni in cui c'era la possibilità di navigare e in quell'occasione ho conosciuto un esperto, un tecnico che si occupava di periziare per conto della compagnia Itavia l'aereo e la conoscenza con lui, Luigi Di Stefano si chiama, mi ha permesso anche di avvicinarmi alle carte, agli atti processuali e da lì nasce un interesse che poi è diventato anche una ragione, quasi una ragione di vita. Dopo anni di ricerche sì, mi sono fatto un'idea del chi studiando le carte, dieci anni di immersione negli atti dell'inchiesta che sono sterminati, che sono praticamente immensi, sono riuscito a individuare il contesto, a ben focalizzare il contesto, a capire chi, ma forse non il perché, ma chi certamente sì. Il muro di gomma nasce da un'intuizione di Andrea Purgatori, che ne dà anche il titolo al film, al film in chiesa, l'unico film che è stato fatto serio sulla strage di ustica, che ci abbia proprio un senso, ha vinto dei premi e anche tuttora è di grande attualità a questo film, è un peccato che non si trovi a noleggio magari. Certamente è stato secondo me scalfito. Il muro di gomma era la rappresentazione delle domande che sbattevano contro un muro di gomma e tornavano indietro con la stessa, trovare le porte chiuse, non avere risposte dai governi. Il muro di gomma ha danneggiato l'attività non solo della magistratura, dei giornalisti, della politica, ci sono andati tutti a sbattere contro questo muro in questa storia. Sicuramente siamo andati spesso e volentieri vicino alla verità in questa storia, anche recentemente abbiamo saputo qualcosa in più, però non credo che ci sia la possibilità di abbatterlo questo muro di gomma, ci sono cose molto più grandi che vanno oltre anche la nostra sovranità. Con la caduta di Gheddafi, non so, io posso dire, l'ho anche scritto recentemente in un pezzo commentando le dichiarazioni di Romiti, che era il presidente della Fiat, che parlava del MIG, questo famoso MIG libico che cadde sulla Sila, poi magari avevo modo anche di spiegare quando e come. Gheddafi vale la pena ripeterlo perché lui lo ripete da tanti anni e l'ha detto decine di volte anche in occasioni pubbliche, lui nella vicenda di Ustica è vittima tanto e quanto il nostro paese. Se è vero che l'operazione che il giudice Priore ha chiamato di Polizia Internazionale doveva servire a far fuori Gheddafi, è anche vero che quella notte c'è stato un errore, doveva essere preso un aereo e ne è stato preso un altro. Quindi Gheddafi credo sappia bene chi è che gli ha teso questa imboscata. Sappiamo che c'era un volo da Tripoli a Varsavia, sappiamo che quella notte certamente Gheddafi era in volo e si stava spostando, c'erano i suoi MIG di scorta, quindi probabilmente l'imboscata era per lui, non era certamente per il 19, portava a bordo, c'erano 81 cittadini italiani, andavano chi in vacanza, chi in ospedale, chi a trovare i suoi familiari, non c'era nessuno su quel volo che doveva essere, motivare di tirarlo giù, ecco, tirarlo giù perché poi questa è una delle prime parole che è stata detta un giornalista, l'hanno tirato giù. Io sono uno di quelli che ha sempre ripetuto che la magistratura finora, anche se c'è ancora un'inchiesta aperta alla Procura di Roma, è scaturita dalle parole di Cossica, un'inchiesta che ha già partorito delle erogatorie internazionali controfirmate dal Ministro Alfano e che speriamo presto ci diranno, se qualcuno risponderà a queste domande, che per l'ennesima volta la nostra autorità giudiziaria ha posto ai nostri alleati. Certamente il Governo italiano sa molto, nel senso che pur non esistendo di fatto un segreto attorno a questa cosa, perché il DISS recentemente, il Dipartimento dell'Informazione ci ha detto che su Ustica non esistono atti di alcuna natura coperti dal segreto, ma di fatto questo segreto esiste perché ciò che è avvenuto e è avvenuto in un momento particolare per il nostro Paese, in un momento in cui il bacino del Mediterraneo, più in generale il Nord Africa, la Libia, i rapporti anche per la presenza degli americani erano abbastanza tesi. Quindi probabilmente se in questa vicenda c'è un segreto, è un segreto che va al di là anche del nostro Governo, al di là della nostra sovranità, un segreto nato, un segreto che comunque riguarda più soggetti, insomma in questa vicenda, vale la pena ricordarlo, quella notte c'erano in volo aerei italiani ma ce n'erano americani, ce n'erano certamente francesi, c'erano portaerei sia in rada sia in navigazione, c'era un AWACS della Nato sull'Appennino Tosco Emiliano che registrò tutto e di quello che ha registrato quell'AWACS noi non ne siamo mai venuti a conoscenza. Tutto questo poi, quello che è avvenuto a Ustica, quello che è avvenuto nel punto Condor che è la zona più buia dei nostri cieli, andando verso il basso Tirreno, è avvenuto sicuramente sotto l'occhio e sotto la copertura, l'ombrello di copertura di numerosi salelli di spia. Non dimentichiamo insomma che nel 1980 sicuramente i russi avevano interesse a osservare la sesta flotta americana che era a distanza da Napoli, a guardarli, quindi c'erano satelliti che vigilavano, non ci dimentichiamo che nell'80 come oggi in Italia è disseminata di basi americani per la sorveglianza elettronica, per la sorveglianza radar, insomma in Puglia c'era una base dell'NSA che probabilmente faceva anche questa attività di SIGINT, cioè Signal Intelligence. Quindi insomma questo incidente è avvenuto sì in un punto buio ma anche un punto osservatissimo, cioè la parte più interessante, se è vero che il fatto che i MIG libici, che sono l'aeromig di produzione libica, di produzione russa andava a fare manutenzione nei Balcani a Bagnaluca utilizzando un corridoio che tagliava in diagonale la Calabria, questo era un tacito accordo tra la Libia e l'Italia, noi addestravamo anche i loro piloti in Sardegna. Quindi questo fatto che i MIG di Gheddafi sorvolavano gli americani non è che gli andava tanto giù a loro, tant'è ci sono nelle settimane, nei mesi che precedono la strage giustica ci sono delle tensioni diplomatiche fortissime in questo senso, cioè gli americani che dicono, in ambienti diplomati che dicono prima o poi glielo tiriamo giù uno di questi MIG, quindi insomma il 19 si trova in un punto, in una zona, in un momento sbagliato certamente e comunque al centro di uno scenario complesso, non è assolutamente vero quello che i nostri governi hanno ripetuto e qualcuno lo ripete anche tuttora, che attorno al 19 quella sera non c'era alcuna battaglia, non c'era niente, la Nato dice che c'erano degli aerei militari, sappiamo con certezza che c'erano delle portaerei come ho ripetuto, ci sono tracce di caccia che atterrano sul pelo dell'acqua, quindi probabilmente c'era una portaerei al nord della Sardegna, questo è un dato di fatto, a meno che questi aerei non siano tutti caduti in mare, abbiamo un MIG trovato sulla Sila, l'aeronautica dice il 18 luglio, ma va detto che il pilota di questo MIG, il corpo di questo pilota era in avanzato stato di composizione, ci sono delle testimonianze di persone che dicono di aver piantonato questo MIG prima del 18 luglio, c'è la CIA che se ne interessa, prima del 18 luglio, ci sono decine e decine di servizi occidentali che vanno a chiedere informazioni, a visionare questo coso, insomma il MIG è, Spadolini disse ai giornalisti trovate la verità sul MIG e avrete anche la verità su Ustica, insomma, quindi io credo che ci sia ancora margine per trovare la verità, è un'azione che non può fare la magistratura perché la magistratura credo che ha fatto quanto era possibile, non è stato celebrato un processo sulla strage Ustica, è stato celebrato un processo alla nostra aeronautica che ne è uscita secondo me anche con le ossa rotte, perché l'aeronautica militare italiana non ha detto, o se l'ha detto l'ha detto male, poi sono avvenute tra l'altro nelle loro basi in giro per l'Italia delle cose assurde, sono state fatte delle manemomissioni, dei depistaggi, sono stati tagliati con la lametta delle intere pagine dei registri, sono state manomesse le registrazioni, basta pensare a quello che è avvenuto a Marzala, a Licola, nei centri radar del sud, quelli che direttamente potevano vedere quanto era avvenuto nel punto Condor, loro lì insomma ci hanno raccontato che c'era in corso un'esercitazione che ha coperto il traffico reale, quindi c'era un videogioco in corso e loro non vedevano quello che avveniva, è impensabile che il MIG per esempio, se è caduto la notte di Ustica, è impensabile che abbia bucato il cielo italiano e nessuno se ne è accorto, quella notte tra l'altro c'era in corso una grossa esercitazione internazionale nelle acque del Mediterraneo, quindi insomma questo MIG che attraversa indisturbato, arriva lì, finisce la benzina e finisce sopra la SILA, insomma. Tra l'altro è noto che e di questo ce ne sono ampie tracce nelle carte, nelle poche carte sopravvissute del centro sismi di Verona che ci raccontano insomma di questo fatto che noi avevamo la moglie americana e l'amante libica, quindi il nostro governo se la faceva tanto e quanto in questo momento con Gheddafi, addestravamo i loro piloti a decimo manno in Sardegna, c'erano insomma dei rapporti, delle relazioni militari abbastanza intensa e questa cosa io lo ripeto non stava bene ai nostri alleati, non stava bene innanzitutto agli americani. Credo che l'azione più forte che vada fatta tuttora è un'azione diplomatica, cioè vanno sollecitati la Francia, gli Stati Uniti e la Francia in particolare a dire quello che sanno, perché probabilmente loro ne sanno addirittura più di noi, a mio avviso, nel senso che quella notte loro c'erano e per quanto riguarda la natura militare italiana io l'ho ripetuto recentemente il sottosegretario Giovanardi in un pezzo sull'Espresso che non so se sono parole vere perché non era un virgolettato, dice che sul 19 c'era una bomba e che ormai è tacito che sia accaduto questo, non dice chi l'ha messa questa bomba perché le bombe di solito si rivendicano quando si fa un attentato su un aereo si rivendica, non l'ho ancora detto, dobbiamo ricordare a Giovanardi un fatto, che ci sono decine e decine di perizie che dicono il contrario di quello che lui afferma, devo dire anche che ci sono dei riscontri che non possiamo non tenerne conto, il 19 è partito con due ore di ritardo da Bologna, parte con due ore di ritardo che accumula durante i vari spostamenti lungo tutto lo stivale, quando arriva a Bologna ha due ore di ritardo, parte alle 20.08, questa bomba quando è stata messa sull'aeromobile? Quando era a Bologna sarebbe scoppiata mentre l'aereo era fermo ancora a imbarcare i passeggeri, invece scoppia dopo quasi un'ora di tragitto, quasi alla fine perché quando perdiamo le tracce del 19 alle 20.59 siamo a 13, 14, 15 minuti la lateraggio a punta Raisi, quindi scoppia alla fine. Come fa una bomba a scoppiare? C'è un kamikaze a bordo? C'è un timer altimetrico? Cioè è arrivata a una certa altezza e esplode? Insomma, tra l'altro se questa bomba è vero che è stata messa all'interno della toilette del 19, giova a ricordare a Giovanardi e a chi persegue questa stramba ricostruzione dei fatti che il lavabo del 19 non è stato neanche scalfito, è stata recuperata una tavoletta del water intatta, il bagno era una delle parti diciamo meno danneggiate e nella parete del bagno c'era, dava alle spalle un passeggero, una donna che aveva delle fratture e quindi era stata legata nei sedili. Il cadavere di questa povera signora era uno di quelli meglio conservati, che aveva meno danni, quindi insomma se la signora Calderone mi pare che si chiamava, dava alle spalle a una bomba della signora Calderone non ci sarebbe rimasto nulla. Ho sentito a un programma radiofonico nei giorni del trentennale dire chi l'ha detto che la tavoletta del water era del 19, io sfido chiunque a 3.600 metri di profondità nel Martireno a recuperare tra tanti pezzi che non erano del 19 una tavoletta di un bagno, non so in fondo al Tireno chi ce l'ha lasciata, la tavoletta era del 19. Grazie a tutti.